musica 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 eccoci qui cosa ti vuoi qua non ti dico un casso gli altri pensieri savi sempre tutto e non savi niente niente di niente stia calma intanto qua non si batte il codo che fai il codo? e indovina loro stanno solo facendo il loro dovere di fedeli si ho capito ma ci sono anche i doveri coniugali ma perché non mi innamorate ancora? beh non riesco a vedere tuo marito non ti preoccupare non ci riesco neanche io ultimamente come si può essere così violenti? ma non è giusto anche io sono single non apparteniamo mica a fasce protente o adagiati sui vetrini di un microscopio per analizzare cause con cause del nostro status non so chiama? basta te il camionote lo fa cosa? ne farò di cojoni via da qua via allora perché sei silva? Grazie a tutti.